Grazie a tutti. Chiaramente le difficoltà che il bambino, diciamo che la maggior parte dei disturbi in età prescolare il bambino li mostra se non attraverso il comportamento disturbi alimentari del sonno, il primo sintomo importante è il linguaggio. E nella difficoltà di linguaggio vanno tante cose e quindi devono essere affrontate, l'abbiamo già detto più volte. E un intervento sintomatico può ulteriormente interferire perché non risponde al reale bisogno del bambino, quindi noi dobbiamo parlare anche di quei disturbi, gli atrogeni, cioè quei disturbi che vengono avallati da comportamenti non adeguati. Perché non ricevendolo a giusto risposta il bambino ovviamente rinforza il sintomo o quantomeno lo sposta, se può, se può. E quindi possono innestarsi quei percorsi di medicalizzazione che danno via a sempre nuovi sintomi. Se un bambino esprime una difficoltà a procedere nel processo di mariatturazione noi dobbiamo sempre interrogarci sulle sue vulnerabilità, cioè su quali sono le premesse. Possiamo dire questo, che nell'evoluzione ci sono tappe significative e un bambino può a volte superare una tappa, diciamo, a stento ed è probabile che si fermerà alla tappa successiva. Perché se non sono state integrate tutte le componenti precedenti qualcosa succederà. Quindi se un bambino che non presenta deficit organici non parla, dobbiamo domandarci che cosa è successo. L'aspetto che teoricamente voglio sottolineare, ripeto, lo farò molto velocemente, è il fatto che il linguaggio presuppone una costruzione articolata oltre alla integrità dell'apparato fonoarticolatorio che è l'ultima parte, diciamo, presuppone una serie di acquisizioni. In maniera particolare, l'abbiamo sentito tante volte stamattina, un adeguato processo di sintetizzazione. Quindi ieri anche la dottoressa Vanadia ha fatto riferimento a uno stile di attaccamento sicuro, una sufficiente stimolazione dell'ambiente e perché, diciamo, qual è il presupposto teorico? Prendo Brunner come massimo rappresentante degli studi cognitivi sul linguaggio che mette insieme le due posizioni che da sempre si sono contrapposte, l'innatismo e l'ambientalismo, e ci dice che è necessario, perché un bambino apprende il linguaggio, che ci sia il famoso LAD, che è il codice, il meccanismo di acquisizione del linguaggio che è innato, ma che sia attivo un sistema di supporto. Se non sono presenti queste due cose, contemporaneamente il linguaggio non si svilupperà. Il linguaggio non si sviluppa se il bambino ha quindi un LAD non adeguato, quindi ci sono delle... però in quei casi, diciamo, è veramente molto più semplice. Se un bambino non sente, ovviamente avrà un ritardo di linguaggio, è tutto facilmente inquadrabile. Quindi noi ci soffermiamo soprattutto, il LAD l'abbiamo visto interferito nel bambino autistico stamattina, ora parliamo soprattutto delle interferenze che possono esserci nei sistemi di supporti. Ricordando, è stato già accennato stamattina, che gli atti allinguistici sono delle azioni e fare cose con le parole, che ogni atto linguistico presuppone un atto locutorio, che è l'azione del dire, ma anche un atto illocutorio, che è l'interazione comunicativa, e un atto perlocutorio, che sono gli effetti extralinguistici sull'ascoltatore. Quindi capire un enunciato significa formulare un'ipotesi sulla base di stimoli selezionati, confermare tale ipotesi, confrontandola con dati che sono depositati nella memoria, giungere a un'inferenza basata sulla pertinenza. Perché, come dice Gris, la comunicazione presuppone sempre una collaborazione tra parlante e destinatario. Questo è il principio di cooperazione. Allora, cosa ci interessa sottolineare? Il fatto che per diventare parlante di una lingua, quindi non per usare parole, ma per diventare parlante, è necessario che il linguaggio venga utilizzato in un contesto significativo e di questo si occupa la pragmatica del linguaggio. Allora, ritorniamo a tutte le cose che abbiamo detto sull'interazione madre-bambino, come si costruisce la mente, come si forma il linguaggio. È un'espressione molto bella in italiano, è stato tradotto formato, è il format di cui parla Brunner, nasce nel momento in cui un contesto naturale viene convenzionalizzato. Un contesto naturale viene convenzionalizzato. Questo è il motivo per cui noi lavoriamo prevalentemente in gruppo, perché il gruppo fornisce un contesto più naturale di quanto possa fornirlo un contesto di terapia a due con un adulto. Ed è, vedrete quanto la convenzionalizzazione sia uno dei meccanismi che noi utilizziamo, ritualizzando gli atti proprio per entrare nel codice linguistico. E' ritualizzato con procedure che permettono al bambino di far emergere dal flusso fenomenico segnali significativi. E quello che è importante, siamo sempre sull'azione, è l'azione condivisa che detiene le regole della grammatica. E' la grammatica dei casi. E il nostro pensiero al congiuntivo nasce se c'è una mente che può fare ipotesi. Se non c'è una mente che si sintonizza col bambino e che fa ipotesi sulle necessità del bambino, non si struttura la mente e non si determina questa grammatica dei casi, che è praticamente la base del linguaggio. E quindi, diciamo, la grammatica dei casi, cioè l'azione condivisa, si pone come un'estensione specializzata dell'azione comune. E' molto bello questo termine, è la cerimonia di investitura. E' quella che permette alla madre, attraverso l'ipotesi di semanticità, di modulare i vocalizzi del bambino, per portarlo verso una maggiore chiarezza fonetica. Non possiamo lavorare, stamattina abbiamo fatto riferimento a tratti soprasegmentali, non possiamo fare una serie di lavori fonetici se prima non abbiamo avuto questo livello di investitura dell'assetto fonetico. Questo lo possiamo capire soltanto quando riflettiamo un attimo sulla difficoltà che c'è nell'apprendere una lingua straniera, nell'apprenderla dopo i 3-4 anni. Perché c'è quella difficoltà? Perché quella sintonizzazione che è avvenuta sul vocalizzo, sul fonema, è unica e ciò che si dovrà riapprendere è un'altra cosa, ma è difficilissimo che si possa riavere quella finezza di intonazione che si è avuto nella relazione primaria. Quindi il format che nasce dall'interazione costante madre-bambino consente la struttura del far riferimento. Il far riferimento, l'indicare, abbiamo detto, quello che manca al bambino con un disturbo autistico, è quello che apre alla dimensione del linguaggio e alla dimensione narrativa. Soltanto quando c'è questa capacità di fare riferimento al terzo si può aprire una narrazione perché è avvenuta un'adeguata separazione, è avvenuta un adeguato concepimento della mente dell'altro e allora può iniziare una narrazione. Allora cosa può accadere? Come abbiamo detto, ci possono essere sintonizzazioni imperfette, è molto interessante, Trevartene, uno degli studosi che abbiamo nominato più volte, ha teorizzato ora il termine sinritmie, che sarebbero le sintonie che si verificano in fase di gestazione. Quindi questo processo inizia ancora prima che un bambino possa vedere sua madre perché inizia quando la può sentire. Carenza nel sistema di supporto, quello che dicevo, se il bambino non ha delle adeguate stimolazioni, ovviamente il suo LAD, la sua parte innata non si svilupperà, un attaccamento insicuro, una situazione traumatica che ho diviso a T grande e a T piccolo, ne abbiamo parlato l'altro anno, il T grande è facilmente riconoscibile, il grande trauma, ma la cosa estremamente interessante, questa è stata teorizzata dalla Shapiro, era stata teorizzata in ambito psicodinamico soprattutto da Masoud Khan, con il concetto di trauma accumulativo. Il piccolo trauma è un trauma non riconoscibile e l'accumulo di tanti piccoli traumi può determinare una interferenza importante nello sviluppo. Dove per piccolo trauma, e qui vorrei riprecisare, non credo che ci sia bisogno, ma insomma è sempre meglio una precisazione in più, quando parliamo di attaccamento insicuro o di non adeguate sintonizzazioni, parliamo di situazioni che si verificano, che a me piace chiamare incidenti di percorso, perché una madre che per esempio nel primo mese di vita del bambino ha subito il lutto della propria madre o ha subito un grave intervento per una malattia o altre cose, è una madre che ovviamente non ha potuto essere presente ai bisogni dei bambini. Quindi non c'è bisogno di ricorrere alle colpevolizzazioni, dobbiamo solo ricorrere a quello che la natura ci manda e i conti col destino. Allora come si manifestano? Perché che cosa accade? Che diciamo è stato teorizzato da Stern, abbiamo tanto parlato di sintonizzazioni, ma queste sintonizzazioni per i motivi più svariati possono essere appunto imperfette o mancate sintonizzazioni. Quindi significa che il bambino non sarà in grado di espandere al massimo quel repertorio comunicativo gestuale vocalico che è quello che costruisce le basi della struttura profonda del linguaggio. Quindi il modo in cui si manifesta, lo dicevo nei primi anni, sono disturbi alimentari, disturbi del sonno, disturbi comportamentali, disturbi del linguaggio e delle funzioni esecutive che sono tutti un po' in aumento e questo però, tornando anche al discorso che faceva ieri il professor Villani, dovremmo anche vederlo come un discorso di disagio sociale, non addebitarlo al bambino. E quindi le difficoltà che oggi troviamo di più nelle nostre stanze, sempre di più, sempre più piccoli, arrivano con queste richieste, sono difficoltà nella masticazione dovute ad abitudini alimentari errate, bambini che mangiano frullato fino a 4 anni e quant'altro, difficoltà nelle funzioni esecutive che sono dovute a stimolazioni selettive. Dico in due parole, c'è la famosa legge di Tissot per cui fino a 3 anni ai bambini non dovrebbe essere dato in mano un tablet. E sappiamo che questo invece non accade, ma non è che viene dato mezz'ora, la regola di Tissot è 3, 6, 9, 12, fino a 3 anni niente tablet, poi soltanto giochi, la console a 9, a 12 l'accesso a internet. Questa sarebbe la regola per la salute mentale. Ma diciamo, il fatto di, e non si tratta qui di fare discorsi antichi o di rinnegare le tecnologie che ben vengano tra noi, al solito si tratta di capire come integrare. Perché quello che stiamo notando è che i bambini hanno veramente ridotto le loro capacità economanuali, la motricità fine. E questo è legato al fatto che i movimenti sono selettivi. Perché c'è questo movimento unico col dito per girare, no? Non ci sono, abbiamo bambini che noi a 6 anni dobbiamo insegnarli a tenere una forbice che prendono peggio di una zappa che sarebbe più facile perché almeno pesa la terra. Perché non c'è un'abitudine a farlo. Non perché si stanno perdendo. Allora l'appello è cerchiamo di non perdere, soprattutto chi lavora con i bambini piccoli, di tenere in vita queste cose. Disturbi evolutivi del linguaggio dovuti appunto a sintonizzazioni imperfette. Perché quando parliamo di disturbo, vorrei essere chiara sulla diagnosi, se parliamo di disturbo evolutivo del linguaggio, parliamo di un bambino che ha un quoziente intellettivo normale, che non ha nessun problema neurologico, potrebbe avere delle malformazioni, vedremo, c'è un intervento oggi dedicato anche a questo, alla parte tecnica, ma se non è questo, è altro, e altro è quello che vi sto dicendo e che noi dobbiamo cercare di capire. Allora che facciamo? Come avete visto, le nostre per l'autismo, ma diciamo il nostro modello è lo stesso anche per tutte le altre patologie, ovviamente tenendo conto che c'è un livello diverso di sviluppo. Comunque diamo una grande importanza alle terapie di gruppo. La cosa nuova, il setting nuovo che da alcuni anni stiamo portando è la terapia di adica, che è proprio la terapia madre-bambino, che abbiamo condiviso con il modello israeliano, dove c'è un setting particolare, madre-bambino, padre-bambino, poi due genitori col terapeuta. Noi abbiamo modificato e il setting che utilizziamo l'IDO è un setting, intanto la differenza fondamentale è che il terapeuta che è presente non è solo in funzione di osservatore di contenimento e quindi di aiuto verbale, ma è un facilitatore della comunicazione anche gestuale. Quindi entra, lo vedrete nella situazione, entra per fare da facilitatore nella comunicazione. Questo riguarda il setting individuale, ma questo lavoro madre-bambina l'abbiamo poi portato in un setting di gruppo con la stessa logica ed è un setting di cui poi vi mostreremo immagini e parleremo e dove c'è tutto un percorso in cui responsabilmente le persone, le terapeute accompagnano il bambino in un percorso fino a che questo rapporto madre-bambino si è rimesso in moto e poi il bambino passa alla terapia di cui ancora ha bisogno se ancora ne ha bisogno. Quindi la terapia di gruppo, a parte quella con le mamme, è la terapia che noi privilegiamo sempre proprio perché ci sia, è chiaro che è molto più motivante per un bambino interagire con un altro bambino, creare delle situazioni di gioco condiviso per imparare parole, perché imparare parole con le immagini o per impararle così che non le può usare non sono motivanti, diciamo, non è attraente per il bambino ma al di là di questo non produce generalizzazioni. Terapie per il supporto emotivo, anche queste sono svolte principalmente in gruppo e ovviamente terapie sul linguaggio, sia sulle strutture superficiali che profondo, che può avvenire attraverso la logopedia, la musicoterapia e l'olofonia. Mi fermo qui e do la parola al prossimo intervento. Grazie. 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 Grazie.